cena di gara stasera tu invece ancora aperta alla stagione della caccia perché tu vai a caccia si non lo sapevi dodici mesi all'anno sempre col fucile puntato e pam non perde un colpo ma dai non ti ci facevo proprio ma infatti non è vero lei è chiara la mia adorabile vicina di casa le piace scherzare molto piacere tatiana tatiana ci avrei scommesso mancava la tua collezione perché che collezione fai galline galline perché le galline si cacciano come no è una sua specialità lui prima le tromba poi le caccia non ho capito dai e posso essere ancora un po più esplicita che peccato siamo arrivati il tempo vola quando ti diverte cos'hai comprato di buono un po di cavoli miei da fare al forno a cortesemente dopo cena potresti imbavagliarti col domopac così non ti sento ululare no 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 don't worry Svetlana better lonely than in bad company Svetlana